Niente quotazione in borsa per Estra per il momento. La decisione di sospendere il processo che avrebbe portato la multi-utility presieduta dall'aretino Francesco Macri a Piazza Affari è dovuta alle sfavorevoli condizioni dei mercati. La situazione del nostro paese, ma anche gli scenari internazionali, insomma, scoraggiano per il momento questo passo così delicato ed importante. A causa delle sfavorevoli condizioni dei mercati finanziari, Estra, con rammarico, si legge in un comunicato ufficiale, decide il rinvio dell'operazione di quotazione in borsa. Pertanto ha ritirato l'istanza di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo. La quotazione è stata rinviata al ripresentarsi di condizioni di mercato migliori. Estra SPAQ del comunicato conferma la volontà di proseguire l'obiettivo della quotazione e anche in tale ottica quello della crescita, come dimostrato dalle recenti acquisizioni nei settori della vendita e della distribuzione del gas. Grazie a tutti.